La mia gara è stata particolarmente difficile perché questi 5 km in salita ripetuti due volte sono stati pesanti, però ce l'abbiamo fatta, sono riuscita comunque a tenere e sono riuscita a primeggiare sulle mie compagnie. È la prima volta che vengo a Magnago e trovo che sia davvero una bella cittadina e spero di tornarci presto ma come vacanza. Così ho più tempo per visitare.